E' la vigilia dell'ultimo atto nel campionato di promozione. Al comunale di Ottaviano, infatti, come ampiamente annunciato, verrà disputato lo spareggio interregionale per l'accesso in eccellenza tra Virtus Ottaviano e Grotta, l'unico che vede protagonista una formazione erpina. Le due squadre, che rispettivamente nel girone B e nel girone C sono giunte seconde, si giocheranno dunque le ultime chance per raggiungere l'obiettivo stagionale, quello della promozione, nel massimo campionato regionale. La Virtus Ottaviano, per farlo, si affiderà al bomber Vincenzo Lapietra, ex Vissariano, che con il dente avvelenato provedà ad arricchire ulteriormente un bottino, che lo vede attualmente a quota 25 reti, con la palma di capocannoniera del girone B di promozione. Gli Uffitani, invece, hanno vinto e convinto la scorsa settimana contro il Paolisi. Con i ritorni di Agata e di Franco hanno anche riportato quel pizzico di esperienza, che serve in gare come quella contro Ottaviano. Il rammarico sarà quello di non poter schierare, Francesco Cataruozzo lo ha ancora squalificato. Il peso dell'attacco giallorosso, dunque, sarà tutto sulle spalle di Antonio Volzone, arrivato a dicembre dalle clanese con il chiaro obiettivo di riconquistare l'eccellenza con il Grotta. Aspetterà lui ed i suoi compagni battere il fantasma delle tante finali perse negli ultimi anni, che sicuramente alleggerà sul comunale di Ottaviano.